In 180 minuti l'Avellino con il K.O. di Vibo ed il pareggio interno contro il Teramo ha dilapidato il vantaggio sul Catanzaro e si è fatto agganciare in classifica, proprio dai giallorossi a 67 punti. Ma la squadra di Calabro è avanti ai lupi per la migliore differenza reti negli scontri diretti. È chiaro che ogni ragionamento definitivo dovrà essere rimandato al prossimo weekend, ma sulla carta un nuovo sorpasso al momento sembra molto difficile, anche se ce lo auguriamo. I calabresi sfidano il Monopoli fuori da ogni discorso, mentre i lupi affronteranno la retrocessa cavese. La vittoria contro i metelliani però potrebbe essere fondamentale anche nell'ottica del posto di migliore terza dei tre gironi, che garantirebbe ai ragazzi di Braia un ruolo da testa di serie nel turno successivo. Ma il destino non è nelle mani di maniere compagni, infatti tutto dipenderà dal Sud Tirol militante nel girone B. L'Avellino è terzo con 67 punti. La squadra dell'Alto Adige è terza nel suo raggruppamento con 72, ma non è ancora la migliore terza, perché il girone C ha visto rispetto agli altri due gruppi due gare in meno a causa dell'addio del Trapani e quindi si calcola la media ponderata con la somma dei punti moltiplicata per 1.05555556. L'Avellino quindi vincendo a Cava arriverebbe a 70 punti, moltiplicati per tale numero vorrebbe dire una media di 73,8. Se i ragazzi di vecchi dovessero perdere o pareggiare e i lupi portare a casa l'intera posta in palio, saranno gli uomini di Braia la migliore terza, altrimenti con la vittoria di Greco e compagni la spunterà il Sud Tirol. Con il terzo posto l'Avellino entrerebbe in gioco il 16 maggio, non più il 24, con gara di ritorno quattro giorni dopo. Nel caso in cui i bianco-verdi passassero il turno ai quarti di finale, qualora finirebbero l'anno come migliore terza sarebbero a testa di serie, un vantaggio non da poco che gli permetterebbe di evitare Alessandria, Padova e Cadanzaro.